Una giovane viaggiatrice solitaria, poco più che trentenne, hai deciso proprio recentemente di intraprendere una sorta di giro del mondo, proprio in solitaria, sei partita in bicicletta girando le Alpi, vero? Da dove è nata questa idea prima di tutto e perché hai deciso appunto di intraprendere questa strada e di iniziare questa avventura? Allora, avevo sempre un po' avuto dentro di me questa passione per il viaggio ed ero sempre stata attirata dall'idea di fare un viaggio da sola, ma avevo sempre avuto paura e quindi avevo sempre scelto di fare dei viaggi di gruppo. Poi l'anno scorso, proprio durante un viaggio di gruppo in Cambogia, avevo conosciuto per caso un ragazzo francese che non era del mio gruppo e in curiosità gli ho fatto delle domande e mi ha raccontato che stava facendo il giro del mondo in solitaria, con lo zeno in spalla, e che aveva chiesto un periodo di aspettativa di sette mesi. A me si è accesa una lampadina e quindi quando sono tornata a casa ho iniziato a cercare informazioni, ho capito e comunque anche io avrei potuto chiedere l'aspettativa, anche se in Italia non è molto usuale, e ho deciso di muovere la richiesta in azienda, le risorse umane, di portare avanti e poi da lì è nato tutto. Esatto, immagino servano non soltanto forza fisica ma anche concentrazione, coraggio, tanta energia, anche perché gli imprevisti sono proprio sulla strada, dal semplice temporale appunto, sia in giro con la bicicletta, quindi insomma non si ha la possibilità sempre di ripararsi. Esatto, sono stata fortunatissima perché non ho mai forato e comunque ho trovato due temporali molto forti, ma comunque sono stata fortunata perché ho trovato dei ripari anche all'ultimo. Quando sei ritornata da questo giro delle Alpi hai intrapreso un nuovo viaggio e da qui diciamo è partito in realtà un viaggio lunghissimo che ti ha portato prima in Thailandia con una tappa in un monastero buddista, poi in Nepal, in Malesia, Singapore, fino all'Australia, da dove poi è ripartito un ulteriore viaggio in bicicletta, giusto? Sì, sì, sì. Insomma veramente cinque mesi molto intensi. Sì, è stato bellissimo e si è proprio costruito tutto strada facendo, proprio il bello di questa esperienza è stato, prima di partire mi hanno detto follow the flow, che significa segui il flusso degli eventi e seguire il flusso degli eventi mi ha veramente portato a un'esperienza che mai mi sarei aspettata, ma che è stata comunque bellissima e secondo me con tutte le sue difficoltà perfetta.